Biglietto sì, biglietto no. Non è facile conciliare l'accesso alla messa di Natale per i fedeli abituali e per quelli occasionali e insieme mantenere situazioni in cui le distanze di sicurezza per il Covid siano garantite. Da ieri nella parrocchia di Santa Lucia si distribuiscono i biglietti per la messa della vigilia alle 16, alle 18.30 e alle 20.30 e per il giorno di Natale alle 8, alle 9.30, alle 11, alle 18. Perché come parrocchio abbiamo fatto questa scelta di dare la distribuzione dei biglietti per evitare l'assalto alla diligenza cioè nel senso che la gente venga messa e magari per troppa affluenza dobbiamo chiudere e rimandare le persone a casa. Secondo noi questo è un disguido e un'amarezza notevole tenendo conto che siamo nella solennità del Natale. Per cui abbiamo detto cerchiamo di prevenire e di organizzare l'afflusso. Noi daremo un biglietto ovviamente gratuito di accesso ad ogni persona che viene secondo la messa che ci viene indicata in modo da sapere quanta gente viene. In questo modo anche per spalmare l'afflusso delle persone perché se una messa è già piena noi possiamo dire beh venga a questa altra messa, a quest'altra. A Santa Lucia che ha una popolazione di 8.000 persone è stata giunta una celebrazione, quella delle 20 e 30 alla vigilia. La messa di Natale ci tiene a sottolineare il parroco deve essere particolarmente curata. Noi già da qualche domenica lo abbiamo preavvisato in chiesa, lo abbiamo diffuso attraverso i strumenti social in modo che tutti sappiano che c'è questa scelta, che è stata fatta questa scelta. La distribuzione è molto semplice, noi abbiamo una segreteria in parrocchia, la gente viene. Tra tante parrocchie che cercano di garantire sia la partecipazione alla funzione, sia la giusta distanza e che mantengono un accesso libero come la cattedrale e tante altre chiese sono davvero molte quelle che hanno seguito l'invito del Vescovo ad aumentare il numero delle celebrazioni. Tanto che c'è anche chi ha detto che sul territorio veronese è praticamente impossibile non riuscire ad andare a messa il giorno di Natale. Ho già avvisato i preti che facciano accrescere il numero delle messe sia nella vigilia sia per la notte del Natale, la cosiddetta notte del Natale quest'anno, per esempio può essere alle 4, le 6 e le 8, diciamo alle 16, alle 18, alle 20 e poi anche il giorno seguente aumentare il numero delle messe, ma anche ricordare a tutti che la messa può essere celebrata dovunque, in tutto il territorio, almeno dell'unità pastorale. Ci possono essere delle chiese più capienti, ne approfittino, sappiano muoversi con molta serenità e comunque mai condensarsi al punto da mettersi in pericolo. Il Natale è sempre festa dal profondo del cuore, è festa di fraternità e di responsabilità.